Puntata affollata e come sempre interessante per la chiusura stagionale di Agora. Ieri sera il rotocalco settimanale di Canale 10 si è occupato di uno dei settori strategici più importanti del tessuto economico e sociale di Gela, ossia il mare e tutto ciò che vi si muove attorno. Il tema della portualità d'altronde è un argomento del quale si parla praticamente da sempre in città ed il più delle volte però se n'è parlato a sproposito o per meglio dire a vuoto. Da oltre 40 anni la vicenda dell'insabbiamento del portorifugio ad esempio è teatro di colossali prese in giro da parte dei politici locali di turno nei confronti di una popolazione di in particolare di coloro ossia gli operatori portuali che sono poi i principali fruitori della struttura marina. Pescatori, diportisti, imprenditori della nautica e della cantieristica navale tutti vessati da una categoria quella dei politici gelesi appunto che ad ondate visto che si parla di mare hanno preso per i fondelli con promesse, proposte, progetti mai realizzati un'intera città. La redazione di Agora per chiudere la ottava edizione della fortunata trasmissione della nostra redazione giornalistica ha così scelto di occuparsi di questa tematica anche alla luce della firma Palermo nei giorni scorsi di un protocollo che permette di cominciare a pensare effettivamente ad un futuro vocato al mare. Cosa che nella storia recente di Gela non è mai stata presa in considerazione ossia una città di mare che non ha mai guardato alle immense risorse anche economiche che il mare offre. Come se gli esempi delle vicine Licata, Scoglitti e Marina di Ragusa non fossero serviti praticamente a niente. La firma di Palermo così potrebbe offrire nuove opportunità e soprattutto una diversa e nuova visione anche della politica nei confronti dello sviluppo che viene dal mare. Un fronte, quello sud della città, che comincia ora ad assumere tutta la sua valenza strategica dopo che Eni, unica referente economica di questa città per oltre 50 anni, ha deciso di togliere le tende da Gela e lasciare un intero territorio nella disperazione più assoluta. Finalmente dunque la crisi più grave della storia moderna di Gela ha fatto riscoprire a Gelesi di essere stati praticamente baciati dalla natura e di avere cioè a disposizione una risorsa inesauribile che è appunto il mare. Di tutto questo si è parlato ieri sera da Gorà con il conduttore, in studio un parterre di ospiti di tutto riguardo, dal deputato regionale gelese Giuseppe Arancio del PD, al presidente del consiglio comunale di Gela Alessandra Acia ed ancora il vice sindaco della città del Golfo con delega assessoriale al mare Simone Siciliano. Quindi il presidente del comitato del porto di Gela Massimo Livoti, il presidente del comitato dei pescatori gelesi Davide Calabrese ed il presidente degli ormeggiatori e barcaioli della rada del porto di Gela Vincenzo Casciana oltre all'imprenditore navale Antonio Adragna. Inoltre dietro le telecamere sono poi intervenuti anche altri rappresentanti degli operatori del porto di Gela. Chi volesse rivedere questa ultima puntata della ottava edizione di Agora potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera con inizio alle ore 21 su canale 10 oppure sui nostri indirizzi social già a partire dal pomeriggio di oggi. Agora si prenderà ora una pausa per il periodo estivo ma prima di tornare con la nona edizione prevista per l'inizio dell'autunno si riserva di organizzare qualche altro appuntamento speciale già in cantiere per le prossime settimane. Nel frattempo però lo staff tutto di Agora augura buona estate a tutti i suoi affezionati telespettatori.